è ufficiale la data del lancio del nuovo programma partner di youtube dedicato a youtube shorts che inizierà ufficialmente il primo febbraio 2023 quindi a partire dal primo febbraio 2023 si potrà monetizzare si potrà guadagnare anche con youtube shorts quindi anche dai video brevi nel video di oggi andremo a visionare questa notizia che appena stata pubblicata da youtube nello stesso tempo è stato lanciato il canale ufficiale di youtube italia dove personalmente io mirco delfino sono video contributor e vi mostrerò anche il nuovo canale che vi potrà tornare molto molto utile benvenuti da mirco delfino in un nuovo video come sempre prima di andare avanti vi invito ad iscrivervi al canale attivare la campanellina di tutte le notifiche per non perdere contenuti come questo ma soprattutto di mettere un bel like al video se vi è piaciuto come ci spiega youtube hanno lavorato duramente per migliorare e ampliare il programma partner di youtube che da metà gennaio 2023 darà accesso alla partnership a un maggior numero di creator offrendo a tutti i partner nuovi modi per guadagnare con shorts inclusa la condivisione delle entrate pubblicitarie vi ricordo che ho realizzato un video sul mio canale dove ho parlato di questo argomento e dove ho spiegato come funziona in maniera dettagliata un video presente anche all'interno delle playlist di youtube italia comunque vi inserirò il link in descrizione nel primo commento la condivisione delle entrate generata dagli annunci di shorts inizierà ufficialmente il primo febbraio 2023 per chi firmerà in anticipo i contratti pertinenti ed essenzialmente questi contratti naturalmente li dovrete firmare vi arriverà una comunicazione direttamente crediamo credo su youtube studio e via email quindi state molto attenti perché vi invieranno nuovi contratti semplicemente dovrete accettarli non è che dovete mettere le firme fisiche sappiamo benissimo come funzionano i contratti online entriamo un po più nel dettaglio ok e cerchiamo di capire quello che abbiamo già intravisto all'interno del video precedente più che altro per chi non l'aveva visto facciamo un piccolo recap ma poi recuperate quel video perché è spiegato bene e sono spiegate anche altre novità dedicate anche alla musica su youtube ok perché fino adesso per poter diventare partner di youtube e quindi guadagnare dalle visualizzazioni pubblicitari dovevi raggiungere i 1000 iscritti avere 4000 ore di visualizzazioni pubbliche valide negli ultimi 12 mesi ok da a partire dal primo febbraio 2023 ci sarà la possibilità non solo di raggiungerla in questo modo che rimarrà ma potrai decidere di monetizzare il tuo canale o comunque dipende da come tu lavorerai sul tuo canale raggiungendo sempre i 1000 iscritti quindi la base dei 1000 iscritti ci deve sempre essere però avrai l'opportunità la possibilità di sfruttare gli shorts e se raggiungi 10 milioni di visualizzazioni pubbliche di shorts valide negli ultimi 90 giorni potrai monetizzare il canale ecco quindi che praticamente abbiamo la doppia opportunità rispondo subito alla domanda ma se io monetizzo con gli shorts o monetizzo con i video normali posso guadagnare nell'altro modo sì a voi basterà raggiungere la partnership in un modo o nell'altro nel momento in cui siete partner di youtube da quel momento in poi pubblicherete video normali o video brevi comunque voi guadagnerete quindi avrete due opportunità per poter monetizzare naturalmente attraverso il programma partner di youtube altra cosa molto ma molto importante molti mi hanno detto è ma 10 milioni di visualizzazioni sono tante lo so però con gli shorts è molto più semplice fare le visualizzazioni tra le altre cose se voi provate a pubblicare un video normale un video breve generalmente in un canale il video breve fa più visualizzazioni allora non vuol dire però che dobbiamo solo pubblicare video brevi attenzione questo cosa vuol dire che potenzialmente soprattutto in alcune nicchie o in alcuni canali si possono raggiungere senza problemi 10 milioni di visualizzazioni ok quindi comunque hanno calcolato che per chi lavora bene con gli shorts sono numeri raggiungibilissimi io molti canali con gli shorts le ho raggiunte queste visualizzazioni ma come con youtube shorts con instagram reels con tiktok perché è molto facile raggiungere queste visualizzazioni quando dico molto facile significa se si lavora bene se si usa un metodo tipo quello di immobili digitali punto com è normale vi anticipo già che nel corso di immobili digitali dedicata youtube automation nel cash cow channel all'interno della community parleremo di queste novità stiamo già parlando di queste novità e vi mostreremo come sfruttare questo nuovo strumento di monetizzazione per guadagnare di più quindi se ancora non l'avete fatto ottenete il corso andando su www.immobilidigitali.com guardate vi metto anche il link in sovraimpressione vi ricordo anche un'altra cosa che per quanto riguarda la monetizzazione non dipende l'attivazione della monetizzazione solo da questo ed è quello che poi noi spieghiamo molto bene in immobili digitali ma dovete rispettare le norme sulla monetizzazione le norme di youtube in generale e dovete stare attenti perché se pubblicate video non unici o non originali rischiate che la monetizzazione non vi venga attivata anche se ottenete 10 milioni di visualizzazioni quindi state molto attenti perché fare le cose homemade da soli senza una guida senza un percorso formativo senza la formazione quella reale può portarvi in realtà a perdere solo tempo come si guadagnerà con youtube shorts qui lo spiega molto bene perché a partire dal primo febbraio 2023 tutti i creator nuovi ed esistenti del programma partner di youtube quindi anche chi era già attivo al dirai delle 10 milioni di visualizzazione diventeranno idonei alla condivisione delle entrate generata dagli annunci visualizzati tra uno short e l'altro nella feed di shorts non entro ripeto troppo nel dettaglio perché ho realizzato già un video e quindi spiego anche le percentuali vedete qui leggiamo un 45 per cento da dividere anche con chi è il proprietario delle tracce audio potete comprare le tracce audio eccetera eccetera quindi il fondo di youtube shorts non esisterà più si guadagnerà in questo modo appariranno le pubblicità tra un video e l'altro e chi è già attivo comunque potrà guadagnare questa è una cosa molto importante inoltre cari amici che mi seguite da tantissimo tempo sapete benissimo che negli ultimi mesi sono diventato un video contributors ufficiale per quanto riguarda youtube in italia è stato ufficialmente lanciato il canale che in questo momento a 61.900 iscritti troverete già alcuni video guardate qui quindi i primi video sono stati pubblicati all'interno del canale scorrendo qui in basso troverete una marea di contenuti utili guardate un po troverete anche i miei video ok quindi troverete i video suddivisi per playlist non solo miei ma anche di altri straordinari creator che parlo di youtube e qui sono tutti i creator della community li vedete qui in sua impressione eccomi qui questo sono io quindi vi straconsiglio di seguire youtube italia perché naturalmente da questo punto di vista sarà essenziale per la vostra crescita su youtube e lo trovate come nome youtube creators italia questo invece sul mio canale monetizzazione youtube shorts nel 2023 cambia tutto questo qui vi consiglio di vederlo perché è quello che vi spiegherà meglio quello che vi ho accennato oggi siamo arrivati alla fine di questo video se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate la campanellina di tutte le notifiche per non perdere altri contenuti come questo noi ci vediamo in un prossimo video ciao da mirco delfino e a presto